Volontari sul fronte, da un anno e mezzo, senza soluzione di continuità, arriva un riconoscimento simbolico per gli angeli dell'emergenza pandemica, coloro che hanno dato manforte a un sistema a più volte messo alla prova. Il loro impegno e sacrificio non è stato dimenticato. Il comune di Sulmona ha programmato per domani, primo luglio alle 16.30, nell'aula consigliare di Palazzo San Francesco, una cerimonia nel rispetto della normativa anti-covid vigente, attraverso la quale il sindaco Anna Maria Casini e l'assessore alla protezione civile Angelo D'Agostino consegneranno riconoscimenti ai volontari del gruppo comunale di protezione civile, della protezione civile Anna, della Croce Rossa e del CISOM, che da marzo 2020 fino ad oggi hanno partecipato attivamente e incessantemente all'emergenza sanitaria da covid-19. Noi li abbiamo incrociati alcuni mesi fa con il nostro reportage nei centri vaccinali. L'empatia è la prima cosa che ci si richiede, perché vengono persone impaurite, persone nervosite e sta a noi poi risolvere questi piccoli problemi per prepararli poi a fare questo vaccino che ci aiuterà a tutti. Siamo un pochino più sereni, perché comunque con le vaccinazioni stiamo andando molto avanti, molto bene e quindi è solo sempre da considerare la persona che magari rinuncia, perché? Perché ha paura? Perché poi... Certo a dire però che i volontari lavorano in sinergia con altri, in questo caso, nel caso dei vaccini, nel lab di Sulmona, noi lavoriamo a stretto contatto con i ragazzi dell'amministrazione dell'ASL. Se il sistema retto va ricordato è grazie al prezioso supporto dei volontari che sono andati anche al di là delle loro funzioni.